Il nuovo look di Gianluca Vacchi, via la barba e capelli blu Stavolta non è un balletto una nuova fiamma a far parlare di Gianluca Vacchi, ma il radicale cambio di look con cui il di lunga e imprenditore bolognese si è mostrato su social. Via la barba e via il biondo platino. . Nell'ultimo post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, Gianluca Vacchi si è presentato con una nuova immagine, l'imprenditore ha tagliato la barba, lasciando solo i baffi e ha eliminato il biondo platino anche dalla sua chioma, che ha tinto di blu. . MR Enjoy ha pubblicato lo scatto per invitare i fan a due serate in Canada, a Toronto e Montreal. Inevitabilmente, la foto ha subito scatenato i commenti dei follower Vacchi ne ha oltre 11 milioni sul solo profilo Instagram. . Non è piaciuto a tutti questo cambio di look, qualcuno ha apprezzato l'immagine più fresca e giovanile del di lunga e imprenditore, mentre i fan che amavano il Vacchi vecchia maniera non hanno gradito la ripulita del loro idolo, che così sembra troppo serio. . E, naturalmente, tra messaggi di ammiratrici o di estimatori, non mancano i commenti di chi lo ritiene un fallito, un morto di fame, un evasore fiscale, un buono a nulla e altri appellativi poco simpatici. . Nuovo amore e nuova vita per MR Enjoy. D'altronde, era prevedibile questo rinnovamento nell'immagine, visto che negli ultimi mesi ci sono stati molti cambiamenti nella vita dell'imprenditore bolognese più chiacchierato del momento. . . Dopo essere stato lasciato dalla storica fidanzata Giorgia Gabriele, stanca di essere considerata solo la fidanzata di, Gianluca Vacchi non ha perso tempo e ha subito iniziato una relazione con la bellissima Ariadna Gutierrez. . Pare che dietro il cambio di immagine di MR Enjoy ci sia proprio lo zampino della bella miss colombiana. . Infatti, molti hanno notato che il nuovo look dell'imprenditore ballerino lo fa sembrare più giovane e questo lo renderebbe più adatto a stare con una ragazza che ha meno della metà dei suoi anni. . Vacchi ha compiuto 50 anni lo scorso 5 agosto, festeggiati al Tvinga di Marina di Petrasanta dell'amico Flavio Bratore, mentre la sua giovane fidanzata ne ha soli 23. . In occasione di un compleanno così importante, Gianluca Vacchi ha anche manifestato l'idea di mettere la testa a posto e cominciare a pensare a un figlio, ho costruito l'affermazione economica, poi la qualità artistica, ora non mi va di disperdere il mio patrimonio genetico, aveva detto simpaticamente in un'intervista. . . E intanto su Instagram tornano i balletti. . . . . . . . . .